nuovo video a me è da boschetto da boschetto vi no aiuto oh andiamo a bella andiamo a eeeh no montagnolo ah no l'ho già fatto allora la missione ma non c'è nessuna missione a fare io delle ceste delle ceste oh vabbè io vado a sponde no però venite a pinnacoli venite a pinnacoli e vabbè andiamo a pinnacoli per ridere vieni a allora io vado no vabbè c'è un casino cioè io vado al campetto da basket perché ha nessuna casa libera no 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 io vado alle ultime case alle ultime case via eh certo gente no guarda pinnacoli non c'è gente uh sopra di me c'è qualcuno aia a terra via aspetta fanno vabbè uh ho fatto una missione quella dei fucili d'assalto sì ok io prendo materiale vabbè se ne frega si è abbandonato no 100 di vita ce n'è uno da me da me due una terra via eliminato eliminati sarebbe sarebbe mio il loot è mio loot e anche io devo fare la missione dandolo ok vabbè ho finito il materiale dammi subito il medikit 43 di vita e 59 allora occhio ma cosa costruisci vabbè io vado a curarti ascolta aia occhio ad max dietro di te ah ok vabbè dai tu filalo grande curami subito curami subito curami subito eh sì grazie dammelo per fortuna grazie ad adesso mi metto il medikit raga siamo sopravvissuti a pinnacoli no no te vai vai oh se vuoi quanto hai di vita a 100 grazie allora io lascio girare il revolver mettiamo questo ok oh io devo farmi materiali materiali occhio occhio io vado a pusharli ma dov'è che sono ma dov'è che sono la televisione è di legno ma dov'è che sono dimmelo ecco lì aia ho ben ho le bende devo curarmi ok a terra via eliminatemi oh io ho 7 o io ho 7 di vita devo curarmi occhio ho messo la trappola eliminato via aia aia sopra dai veloce aia aia vai grande è e pici ho oio mi purrano ancora eh Eh? Oh No Sono già al massimo Eh Sì C'è Sono già a 75 diviso Oh aspetta io prendo questo Via Non questo Io sono già a 4 fili Dove? Dove? Eccoli Aia Eh vabbè Stinati non vengono Raga non siamo sopravvissuti Stinati Dai Io mi nascondo qua Sì certo Tutti qua sono nabbi Non vengono a pinnacoli con noi Vabbè io quitto No vabbè Devo morire Non so se mi uccide Con il ciccone che è nabbo E anche io ho fatto la missione E anche io ho fatto la missione Fai vedere? No ho fatto la missione Oh vediamo Ottieni di compense Passa lì Per il livello Oh 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 Ciao Fra Bella 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 Allora Sei online alla play? Fra Fra Aspetta Eh no guarda Ah c'è Star V. Javis Uno Quasi tutto Uno Eh vabbè Ma chi se ne frega Invito a Star V. Javis Bella Eh sì sono in live Lo sappiamo questo Papi lo prendiamo? Questo Ma invece che mi Se no prendiamo questo Michael Jackson Son Eh Eh Cosa c'è? No 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 io non lo faccio Ah ancora a Finnacoli Raga Tutte le partite a Finn Finnacoli Perché Almeno No almeno Proviamo a sopravvivere A Finnacoli Oh dai Viene Siamo in tre A Finnacoli Viene anche Dai Faisa Mohamed No Siamo in quattro A Finnacoli Siamo un team Intero Un team Intero No io vado alle doppie case Se sono libere Dai che sono libere Dai che sono libere Dai che sono libere No Non sono libere No Non è libero Oh Sto qua mi spara in volo Ma che abbo Ok Compa Bene Qua non c'è la chest Perché Grande Vieni da me Veloce 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 Ti prego Dai che ce n'è uno Vabbè Ah sei te Quale il missile guidato Ok che ti killano Eh vabbè dai Non ho materiale Io come faccio Andare Ok dai dai Ho materiale Ho materiale Posso andare A colare Via 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 Aia Ce n'è uno È nabbo È nabbo Che nabbo che è Guarda che nabbi Aia ma come ha fatto No non spararmi Oh ma è nabbo Questo Cioè Hanno la mania di Cioè hanno la mania di Uccidere quali Eh vabbè Sei morto È una campera Eh bravo No ce n'erano Tre o quattro Ecco Visto Ce n'è uno Visto L'hai visto È là sul balcone Ti puscia Ti puscia Occhio Sì guarda Sì guarda Ma ti puscia Dal non Dalla Eh vabbè Sei morto Da solo Guarda Sta spaccando Anche Sono in tre Andiamo ancora Pinna Io vado a pinna Ma io voglio fare Tutte le partite Pinna Voglio fare Tutte le partite Pinna Lavoro Bella raga Bella raga Bella raga Bella raga Io Mi chiamo Su youtube Riccardo Bertola Perché è mio papà Sì No No Allora No Non te l'ho detto Ma guarda Questo Ha steppato Eh vabbè Io vado a pinna Vabbè Siamo Tanto siamo In quattro Pinna Allora Loghi Eh Sì certo No No Come si fa Ad armi Ci va gente Però Dottiti Ci va gente Ah Devi darmi 300 V-back Eh certo C'è giusto E' qua E' qua E' qua E' qua passate al mio nuovo canale Davide Bertola faccio video di Slime ok, bella vabbè andiamo sempre a pinnacoli a cosa? quindi non stai giocando? e allora chi sei? no vabbè io vado a borgo no dai troviamo a pinna magari sopravvissiamo come ninja siamo ninja ciao manti cosa? si car fra c'è mattia mattia otto fra nei commenti mi ha scritto c'è mattia mattia otto oh aiuto quanta gente va a pinnacoli oh matti lo sai che stiamo facendo la sfida che in tutte le partite andiamo a pinnacoli ok ok quale ma che schifo e allora perché allora se io ti dico se io ti dico buttati giù dalla finestra e te lo fai aia tavolo muori e vabbè si ho pochissima vita e allora io non ti do i v-buck guarda che stupido questo lì dai dai ma te sei camperato allora io quitto si che sei camperato allora matti vieni ok no ti invito io matti mattia mattia otto allora sei lo so è della stagione 4 non mi dice che mattia ma non mi dice che te sei online allora invitami mattia no mattia mattia otto non ti trovo neanche adesso ahhh sta playstation mattia eh vabbè vai aiuto aiuto entra dal party ecco ok ok ti invito eh ti stai invitando ok via ok però te devi shopparmi dieci dieci livelli del passo oggi se ti regalo la skin eh te li shoppi e me li regalino e io ti do il ballo certo che si può io so come rimbo allora cosa ciao fra grazie ancora per il commento noi siamo play play io vado a pinna oh hai sentito la sfida che andiamo sempre a queste partite a pinna bello eh sì no no perché mi dispiace te la stai camperando eh aspetti sta partita eh scusami te non quitti mai quando giochi con me io vado al campo da basket matti aiuto voglio fare canestro vai canestro me ne manca uno di canestro mi manca un campo da basket e finito la missione è a corso giusto o hai un'arma da mila revolver hai colpi che ne ho sei ok anche qua è ok li ho presi eh hai visto visto che sta camperando ma sì eh sto qua la campera proviamo eh dove sei ecco guarda sto qua che skin i colpi che ne ho due mattino mattino due grazie eh sei scappata da pinnacoli con la jump o un portale perché è impossibile che hai camminato io ti muto ad perché dobbiamo concentrarci eh aspetta che lo muto oh fra oh aspetta aspetta gente 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 occhio dov'è sta gente è là ski camper dov'è che sono sono qua matti aia fuci la cannotte eliminato aia vabbè questo amico è nabbo nabbo eh vabbè alla lobby Oh ti invito fra Ma anch'io lo invito da Epic E allora vieni Allora No Matti ma cosa hai fatto Vieni Bella Bella a tutti ragazzi 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 Io voglio sciopparmi la skin di Michael in terza Wong Kong è bella Costa 20 euro Bella a tutti rosa bella Oh io tengo sempre per Oh Matti metti pronto Eh Sì però è bello È bellissimo Sì ma costa 2000 solo quello Eh vabbè allora Cioè costa 2000 solo il coso Cioè Neanche a me A me spiacciono le skin Cioè gli zaini I picconi sì Sono belli Però gli zaini Quelle cose lì Non mi interessano Eh Cos'è Eh ma guarda Posso scioppone Io ce l'ho Cioè voglio sciopparmi Bello È anch'io Anch'io scioppo buco No io vado a corso per fare i canestri Eh non posso cambiare Ok Ma è difficilissima È a palmetto A palmetto che è più vicino Venite in casa mia Anche a me Anche da me Arrivo A terra con 7 di vita Vieni qua O se hai band Me le dai Che ho 7 di vita Occhio Occhio Eh vabbè Sì Matti veloce Vai Grande Occhio 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 Matti È lì È lì Ah curami Eh vabbè Fra Mi posso curare Occhio Cosrissimo Matti Vabbè Vabbè Il nostro amico Ha pinnacoli Ma ha quittato Ha quittato O ha crashato Anche per me E vale Vale gioca Call of Duty Oh Fra Io vado in chat Di gioco Con Fra Ah no È rientrato Nel par Hai quittato No c'è Hai Come si chiama Fra Hai crashato Io vado sempre a corso Vado subito al campetto da basket Almeno Ma Matti Ma Matti Ma te sciopi Abbastanza Poco 50 skin Ecco vabbè Chi se ne frega Andrà da Benka Il suo amicone Benka Partì di Benka Sì è vero Eh vabbè Io vado sempre a Eh anch'io me lo Cioè Non devi comprartelo Eh io mi sono già Registrato Il tutto No no Io vado a corso Io vado subito Al campetto da basket Poi se non c'è luce Scappo A corso Ho una revolver Io E anche da me Ho il pompa nuovo No Aia Eh vabbè Sì Io vado sempre A corso Stavolta Faccio sempre Il canestro Faccio Proprio Canestro Poi anche se Mi uccido Eh Va bene Via Via corso Io una volta Ho dominato Pinnacoli Mi dispiace Eh mi dispiace Adesso Ma certo che Fantasia Cioè raga Scrivete nei commenti Se è una fantasia Chiamare un altro Borgo Bislacco Borgo Bislacco Cioè un'altra città Sì ma quindi Che città Ci sarà Invece che Borgo Eh lo so Sì anche In salvo al mondo Fedex Per me mi manda Un messaggio Fedex Ecco No io vado A corso Tanto siamo vicini Vai vai che appesode ciao fedex no stiamo in in coso aia e vabbè si si sta registrando ok ce ne facciamo una io e te fedex e infatti o ti invito seleziona battelle reale eeeh 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 lo so oh dai però muoviti entrare ok do no non perché no sono in partita non parco giochi metti scuola Fedex è in chat di gioco non so perché no sono in partita sono in partita Fedex io vado a corso a fare le missioni eh le missioni del pass eh lo so ma io vado a corso bye bye sto con la mia tipa su una tesla chi appesode matti chi appesode la capri oh ma Fedex vieni qua vieni qua guarda cosa ti faccio guarda cosa ho no no guarda cosa ho bella lo sai te conosci il bug di scena 14 gigante io ce l'ho scena 14 ciao massi 33 bella perché non giochi alla play massi a me no mai una scuola gigante ah no mai ciao massi bella si si puoi giocare matti si si puoi giocare massi puoi giocare accendi la play no gallo eh matti matti vieni in casa mia vieni in casa mia cioè vieni al mio party e allora allora eh si no guarda non ce ne sono ok ho trovato solo un'arma me la tengo io però ok e anche io vampa eh io grigio oh sono sopra le vende quali sono io master costruttore è anch'io quello eh vabbè oh ma te che piccone hai di te io ho questo bastone torcia a quanti vbac si sono io oh ce n'è uno davanti a noi davanti a noi ecco si buccia vittato eh vabbè si certo quanta vita quanta vita a due di vita ma vabbè si questo c'è a due di vita sto qua no vabbè io vado sempre a corcio io devo sempre a corso ridiamo un po' a corso vediamo allora se troviamo il fiscale da precisione arriviamo a 10.000 like per questo video è è uno due iolo perché vabbè iolo cosa c'entra vabbè ah anch'io lo seguo fa vj terra ah ok eh no io non la faccio perché giochi a chi a chi io faccio la missione dai canestri che me ne manca uno è a corso e poi basta ma voi siete ancora in tempesta sabbia sì ma è impossibile vincerla perché diventa piccolissima la safe e ti ti eh ok you check bolt cecchino te lo do no no se vuoi no oh sì ho colpi medi ne ho 14 però eh sono là vabbè io vado a ruttare un'altra casa oh aspetta no dai lasciamela l'arma che ho solo un check vuoi la vuoi la pozione no vabbè me la sceldo io dove oh lo sai che io volevo sciopparmi manzo boss ma oh aspetta occhio da me da me da me aia è manzo boss è manzo boss è lì davanti a te eh vabbè vabbè io vado sempre a corso te puoi andare dove vuoi ma da me sta piovendo anche da te matti io vicino a bergamo a si frate puglia oh metti pronto fra oh matti ma te sei ancora in partita eh vabbè ce ne facciamo una intanto io tra due livelli sblocco la bagnina no vabbè ma è ok a vabbè a vabbè a a vabbè a vabbè Grazie. 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 Sì, ma te shoppi sulla Switch? Sì, ma non possiamo... Oh, vabbè. Io vado stavolta al campo da basket e faccio sto canestro di minchia. No, no, io vado a... No, non possiamo... Matti. No, io non... Io non quito. Ah, che nome è? Aiuto da me, da me, da me. Sì, sì, da me. Ma ho trovato la cesta, ho trovato la cesta. Uh, mitraglia leggendaria. Dov'è? Da me? Da Hollywood? Io lo chiamo Hollywood. Chi se ne prega. Ammazzato! Eliminato! Via! Eh, no. Oh, raga, qualcuno ha colpi piccoli. Io vado... Io vado... Occhio! Là, là! Venite a killarlo. Venite a killarlo. Aia! 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 Mi stanno sparando 40 di vita! Sì, sono sul tetto. Io lì lancio la ballerina. Aia! Aia! Qualcuno... Qualcuno venga a curarmi. Ok. Occhio! Dietro! Eh, vabbè. Oh, dai! Però mi hanno la mania di ucciderci. Help me! Ciao! Vabbè, io vado sempre a corso. Vabbè, io vado sempre a corso. Ok, vai a palmetto. Io vado a corso. Io voglio fa... Dai, io vi prego, l'ultimissima volta che andiamo a corso. L'ultima contata. L'ultima contata. Io no, non ce l'ho. ho non ciò. No, non ce l'ho. Eh, bella. Io no, perché non ho scioppato il pass 3. No, io gioco dalla season 2 Qual, quasi Sì, certo, season 1 Allora C'era il pass nella season 1 Che Allora che skin c'era All Che skin c'era alla fine Della stagione Tipo spaccatutto Qualcosa lì Ah, quella lì c'era Veramente Che belle Anch'io Io mi compro Secondo te io mi compro La Co No, io devo No, io vado al Al benzinaio Che ho trovato Forse un'arma Epica Ah, è il pompa nuovo Ah, no, è la Desert Eagle Desert Eagle Uh Perché Io ho la Desert Eagle Al Mami E ho l'unica arma No, no Aspetta Devo fare I canestri Oh, canestro Ho fatta la missione Visto Ok Sì, sì Oh, vuoi prendere il pompa? Oh, da me una pistola Un nuovo pompa? Un nuovo pompa Me lo prendo io Tieni Oh, da me c'è Uh, cecco Cecco, cecco Bella, bella Bellissimo Sì, c'è gente C'è gente Sono tutti camperati Sono tutti camperati Io vado a pusharli Voglio Tilla Tanto ho già fatto la missione Sono al Mace L'hai detto anche tu Dov'è che sono? Beh Vede Ok, da me Distributore Ma no Eh, no Eh, vabbè Io ho il pompa Nuovo Sì, è nuovo Ho un medikit Sì, lo so Eh, aspetta che apre sta cesta Ho da me Uno shield da 50 Sì, sì, sì Vieni Vieni Vieni, vieni Sì, sì Oh, vieni Vieni È qua No, Matti Lascialo Ok, ti spello Eh, ma È più bello Sono più belle Quelle nuove E neanche armi Perché non esistono armi nere Ma c'è qualcuno A corso Io prendo il carrello Qui vuole salir Sul carrello Ciao Certo che Fortnite Spacchi tutto il mondo E non si rovina neanche La punta del piccone È troppo pinto Lo scarra Ah, è vero Il P90 Toglio i 10 Eh, sì, ma Guarda Stai fermo Stai fermo Chi vuole Salire sul carrello Tranne Matti Lo so Da quando I cesculli Con i fiori Si spaccano Che hanno Cento di vita Ma Cosa vuol dire Lo sapete Cosa vuol dire ASMR ASMR Cosa vuol dire No, non è vero No, dai Cosa vuol dire Veramente OMG Vuol dire Omega Per me Ah Pensa 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 Ragnarok Che fa Lo youtuber Oh Matti Ti hai visto Le mie copertine Dei video Che figata Le ho fatte ieri Sono bellissime Sì Sto ancora Digistrante Con su Consumi E io Non ho 600 Io 729 Sì 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 Prendi il metallo Ma dai Ma Fedex Non prende Il metallo Io Io 193 Di metallo E Pensa Nella Season 10 E Vabbè Fra un anno E Infatti Sì Lo so Noi Stiamo Quasi A Tomato Eh Mi dispiace Se mi sparano Noi Non arriviamo Eh Ho 90 colpi Te li do Non Non per Vabbè Io Ho 999 Di Legna Noi Siamo Siamo Quasi In safe Davide Io Sono In safe Oh No Aiuto Ragazzi No 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 Non Gente Allora Siamo In 17 Una bella Vittoria Reale Per questa Live Guarda Guarda che bella La skin di Twitch Prime Della Season 4 Guarda Ti regalo Legna Ti regalo Legna Allia Da noi Si ho capito Io Ho le granate A tutti Cose Aia Aiuto 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 Matti Vabbè Mi pusciano Facilità Meno male Eh vabbè Sì via andiamo palmetto 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 eh io faccio la live solo con skin di twitch prime solo con skin di twitch prime no ma mi invita oh Matti te lo conosci Gallox eh mi invita un mio amico mi continua a invitare come eh vabbè ok mi metto offline eh lo so infatti io sul profilo metto imposto stato online offline appare offline oh aspetta ok ok adesso mi segna che non sono più online ok vi siete già buttati ma se io vado no ma va troppa gente a la città si ok io sto venendo infatti oh c'è da me c'è da me un portale oh io vado io devo andare un attimo in bagno ok oh c'è da me un portale oh c'è da me un portale ok 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 uh raga perché dove siete eh no ho una pistola ma in quanti sono eh sì ma se non ho materiale eh vabbè quanta vita ha ok no vabbè io mi metto online no vabbè io mi metto online quale no no mettiamo parto giochi no io non la faccio io metto la skin uguale a matti ma perché devi stare sempre con fra no io non faccio sta challenge no dai non facciamo ste challenge facciamo perché giochi normale no resta in sta squadra no ma resta in vabbè vieni in squadra te eh vieni squadra tre oh ma facciamo parco giochi normale però o vieni al palazzo grigio centrale ti do i colpi oh non potete paitare non abbiamo un'arma prendi 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 sei è un eh da me questa è mia eh no no te ne ho già te ne ho già eh che culo no ma lui p90 eh no io prendo la revolver che forza si lo so oh vieni da me che c'è una cassa ok una mitraglietta e una pozione scudo la vuoi te si ma eh io ho 50 di scudo ok eccolo qua lo slurp se vuoi lo slurp oh no io vado a luttare sopra oh c'è un vampa fucile lo so oh vieni 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 qua eh no no guarda non rubarmelo non rubarmelo guarda allora mettiamo questo qua ok va bene oh se vuoi ci sono shield Aisha ah se devi già no prendi la jump prendi la jump eh dammela mai allora aspetta che prendo questa grazie prendi lì shield prendi al massimo lì shield ok e anch'io il bolt action matti vieni qua che c'è una cesta si si ecco oh c'è qualcuno da noi eh no guarda ci venete a pushare vieni sotto vieni sotto che c'è una cesta oh colpi ok oh aspetta no 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 prendi le granate ok no no allora no via eh vabbè eh vabbè no eh certo prendo allora no no aspetta prendi le cas- ah no ah no lei già più oh aspetta metti la jump metto io la jump oh metti la jump metti la jump io vado a luttare là il drop là vieni da me lancia lancia oh sei morto eh sì oh no 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 eh grazie 58 di vita non potete uccidermi non potete uccidermi e perché no vediamo vediamo distributore distributore leggendario P90 no 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 abbastanza ferro prendiamo adesso ho ferro ho ferro non potete uccidermi lo capite non potete neanche ma perché stavo prendendo poi le mie cose vabbè questa qui non vale vai oh non puoi killar oh vieni qua vieni qua vieni qua fede che lo pusci uuuh p90 leggendario è oh no ho uno di vita no aspetta mi curo mi curo non uccidetemi non uccidetemi vi ho detto è sopra no si è mischiato il nostro loot sono io c'è matti è anch'io mi si è mischiato è anch'io dammi le cose dove sono ah certo che vale aspetta aspetta via ecco il p90 perché? no ok ok è anch'io oh dammi il medic hit grazie grazie eh no ho 14 di vita prenditi il p90 anche te qua al distributore oh no oh no vieni 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 fortino abbiamo anche una jump oh fatene oh io vado a luttare la cesta certo certo che posso oh aspetta o io mi bevo i shieldini poi vengo eh scusami ne vale certo che posso ma dov'è che sei ma dov'è che Ho tre V di vita. Certo che vale. Oh, io mi vado a cercare un medikit. Dov'è? Dov'è? Oh, da me è una testa. Oh, non potete. Ci stiamo curando. Una jump. Oh, non potete a me. No, non potete. Uh, che raffa. Che c***o che ho. Eh, io ce l'ho al P90. Oh, arrivo Fede. Oh, arrivo Fede. E allora? Sto qua ha jumpato. No, no. Oh, va. Oh, va. Oh, metti una jump Aspetta che cambia i comandi Ah, ok Da me, da me Ah, ok Ah, dietro Oh, hai bende Eh, anch'io Perché devo curarmi Oh, hai bende Eh, sono camperato Sono camperato Ah, 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 matti Sono camperato Ti ballo anche in patta No, non puoi Non puoi, allora E allora metto la live privata Almeno voi non potete Vederla Dai, dai, guardatela la mia live Dov'è? No, non potete busciarmi No, non sono sul palazzo grigio Oh, la slarp Ho trovato la slarp La slarp Dov'è che è? Ah, sono là Oh, arrivo, Fè Oh, arrivo, Fè Oh, arrivo, Fè Oh, mi hai fregato il loot Oh, però Oh, però Non potete barare A guardare la live Oh, arrivo, eh Fede No Eh, cos'è? Ma chi è streamer? Ma dai, ma il mio loot è caduto Ma quindi il mio loot dov'è? Ah Sì, ma il mio loot dov'è? Ah, è questo Ah Oh, te l'ho lasciato Io non trovo il mio Dov'è? Ma Ok, ma ti è in hub? Ma pensavo che era il mio Ma non so dov'è il mio Oh, scusami Ma dov'è il mio? Cosa giù? Ma non c'è neanche giù No, dai Ah, è qua dentro Io no Ah, è questo Trovato Io ho loot Sì No, dai Ah, è questo certo che è giusto sono camperato che bello no allora non è vero non sono camperato sono nel tuo portino ho 72 di vita ma cosa ma io ce l'avevo ce l'avevo già ok sei questo e ma hai delle bende per caso o io vado a cercare bende eccole qua la c'è ecco la qua la mia c'è ma dagli scildini e vabbè ce li beviamo anch'io sono camperato ah ma tu sei camperato la ma dai ma certo forse è qua oh ma chi è che mi spara oh aspetta oh non potete killarmi eh ok adesso cambi i comandi ok dov'è che è sì sì boh ah No, non potete Dove, dove, dove Dove sono, dove sono No, dai, dove sono Fede Mandarino Ok Ok Allora, dov'è? Ah no, è là, è là Ma cosa fai? È qua la jump Allora È lì la jump Ok, dov'è? Dove sono? Ah ok, ok Visti, visti Grande Certo che vale Adesso dove sono? Dove è matti? So sei sicuro? ho detto sei sicuro e ti ho sparato è qua? oh aspetta aspetta via cassa si prendi le impulsi prendi allora dov'è che sono? ma saranno scappati dove? oh aspetta ho trovato la slarp me la bevo eh si sente him quante volte l'hai detto aspetta vedo col cecco dov'è? eccolo spara da dietro uno si si io vado al campo e allora fatela io ho 999 di legno ma dov'è 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 Mattia? eh no non lo trovo non l'ha alluntato neanche la cesta oh ma dove sei Matti devi dircelo sei al campo da basket dove? ah ok è anch'io è qua ne c'è anche la cesta è qua prendi 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 io prendo la cesta la slarp no non siamo al benzinaio ci sono cildini qua non siamo al eh si dice così aia no mi sono suicidato aiuto sono caduta da 33 metri no vabbè si si vuol dire così no dai dov'è il mio loot adesso non capisco più ah è qua è qua è qua è qua è qua ah è qua è qua eh ma allora anche voi dovete bella jump ma dov'è che siete ditelo oh no dai però voi ci avete visti voi dovete dircelo è perché a voi camperate a voi camperate hai sempre delle scuole ahahah non non ce l'ho Oh, metti le trappole. Adesso lì rubiamo la jump, dai. Rubiamo lo scar. Eh, io non te l'ho fregato, né. Sì, sì, sei in team, guarda. Ok, scusa. Ma non te l'abbiamo rubato? Oh! Hai detto che eri in team, Matti. Quindi, questa kin non vale. Ah, 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 ah. Oh, meglio. Oh, dove sono? Hanno messo la trappola. Eh, ok. Ma cosa? Ma cosa ti sparano senza senso, seri mia? Hai messo la jump? Oh no, devo prendere la jump io. Via. Noi scappiamo da pinnacoli. Allora, voi che siete scappati da pinnacoli. Oh, metti il camp, fai. Non è vero. No, dammeli, dammeli subito. Da tanto non è vero, ne avevo 718 e ora ne avevo 718. Eh, vabbè, io ho il pompa, che t-shot. Oh! Vai, vai, sali, sali. Vieni. Aspetta. Ah, sono là, sono là. Ah, sono là. Oh, te ne do, te ne do qui, eh, te ne do 100. Aspetta. Allora, 100. 98, scusami. Perché non me ne fa andare 100. Eccoli. Ah! Ma che camperoni che siete. Modificate poi. Finisco. No, deve, no, non è 8 minuti, no. Eh, vabbè, quando finisco. Eh, non 8 minuti, che ne sono ancora... 4 o 4. Oh, no, mi hai, mi hai rubato i colpi. Piccoli. Eh, dai, dammeli. No, no, non, non me ne hai rubati 44. Oh, non potete. E allora... No, io devo, devo trovare... Eccoli i colpi piccoli. Ok. Oh, no, non potete. Ciao. 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 E allora... Ciao. oh no è camperato no 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 è un wonder eh l'abbiamo tolta quella regola oh è qua è qua da me si si eh io lo so dov'è guarda ti vanno anche in faccia eh non ce l'ho preso io oh 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 eh anche te volevi uhuu hai beccato il muro della mia costruzione uh 14 di vita eh io sto scappando da pinnacoli eh certo che vanno ok scappo eh vado a sfonda a luttare no no prendo le bende e ritorno eh no ah si è camperato là ahia no da 103 metri ah ok sono camperato sono camperato e adesso vado a sfonda e mi campero adesso vado a sfonda e mi campero adesso vado a sfonda e mi campero no non sto ne entro al palazzo rosso no non è vero si che deve fare così uh lanciarazzi e una raffa me la bevo no ho 100 di vita io vado a cercarmi una scaracca io sono a sfonda p90 ma ce l'ho già no io sto lutando a sfonda per trovare lo scaracca ma cos'è sto ping? ah 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 E allora Siamo in stage Io sono camperato a sfondo Dov'è? 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 Ah ok Tanto è lanciarazzi Eccolo eccolo Oh cos'è? Sì guarda Da 80 metri Così poco E certo che conta Vai vai fede Eh vabbè Erano anche in due Ti capisco Ma perché dici a spi? No i razzi men Ah no sono qua Eh vabbè Ma non potete Check in armi in due Oh io scappo Perché c'è la safe Oh no Dai E allora io vedo Pusciare matti Eccolo là Perché Perché Oh io scappo Ciao matti Oh matti Non puoi spararmi Eh no Oh dai Allora io non gioco più Con te Ma vabbè Eh sì Grazie Tanto te muori Dalla safe Dai dov'è il mio lutto Adesso È sommerso Dalla safe Eh ma perché Ha crashato Ma perché Sei nella nostra squadra Maschi Eh Io Io ho 14 Più Perché 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 Eh che nabbo ma vabbè ma che culo